Con la bella stagione, vi è in proprio voglia di stare all'aperto e sistemare l'esterno della casa. Per questo è arrivato il momento di sostituire la vecchia canna da giardino con un'idropulitrice Lavor, perché grazie all'acqua ad alta pressione pulire è più facile e meno faticoso e soprattutto vi fa risparmiare tempo e acqua nel rispetto dell'ambiente. Per questa stagione Lavor vi presenta STM 160 VPS, idropulitrice ad acqua fredda, rivoluzionario sistema VPS, Washing Program System, un sistema brevettato da Lavor che permette di selezionare uno dei tre programmi preimpostati a seconda del tipo di superficie che si vuole lavare. Il consumo di acqua e di energia è ridotto e calibrato a seconda del programma che si decide di utilizzare. Si estende la durata del motore nel tempo utilizzando al massimo delle prestazioni la macchina solo quando necessario. Programma Soft, ideale per mobili e le superfici esterne in legno, mobili da giardino in rattan o plastica, arredamenti in vini, biciclette, tessuti esterni. Permette di risparmiare fino al 50% di energia. Programma Midi, ideale per pulire auto, pod, moto e caravan, pareti intonacate, superfici in cotto e pavimentazioni esterne. Permette di risparmiare fino al 25% di energia. Programma Hard, ideale per pulire asfalto, autobloccanti, lastre di pietra o cemento, muri di mattoni, ringhiere e cancelli in metallo, attrezzi da lavoro e da giardinaggio. Per lo sporco più ostinato, per eliminare muffe e sporco da pavimenti, muretti e infissi. Testata della pompa in alluminio per una lunga durata. Carrello con manico ergonomico per un'ottima manovrabilità. Grandi ruote gommate per superare dislivelli e gradini in modo facile senza faticare. Serbatoio detergente esterno pratico e capiente. Pratico vano porta accessori per riporli ordinati dopo l'uso. Una completa e ricca dotazione di accessori. Tubo ad alta pressione da 6 metri. Per un ampio raggio di azione che riduce al minimo la necessità di spostare l'idro in fase di utilizzo. Pistola con attacco rapido del tubo alta pressione. Lancia multi ugelli in metallo con attacco rapido. Ugello rosso ad alta pressione con getto concentrato. Per lo sporco aggressivo e localizzato. Permette di pulire fughe e punti precisi. Ugello giallo ad alta pressione con angolo a 15 gradi. Il più adatto per rimuovere rapidamente lo sporco su muretti, selciati e terrazzi. Toglie ogni tipo di sporco rapidamente. Ugello bianco ad alta pressione con angolo 40 gradi per lo sporco superficiale. Ideale per risciacquare. Terminato il lavoro di rimozione dello sporco aggressivo. Con l'utilizzo della speciale Lancia Turbo, che concentra la pressione in singoli punti, si potrà completare il lavoro anche in presenza di sporco persistente. Aumenta del 50% l'efficacia del lavaggio. Servatoio detergente esterno per erogare tutti i tipi di detergenti che aumentano l'efficacia del lavaggio del 50%. Vari tipi di detergenti studiati per rimuovere il muschio e muffa o per far risplendere l'auto o il caravan. Il comodissimo lava superfici slider. Per pulire i vostri pavimenti esterni e i muri senza schizzi e sprechi d'acqua. Aumenta l'efficacia del lavaggio del 40% utilizzando i due ugelli rotanti asimmetrici. In modo facile e veloce, slider permette di ampliare la superficie lavata rendendo più uniforme il risultato. Ideale per pavimenti esterni, terrazzi, portici, patio e per i muri dell'abitazione. Sonde Spurgatubi Lavor. L'ideale per disotturare grondaie, tubi o scarichi esterni intasati. Pulizia che può essere completata con l'utilizzo delle spazzole Lavor che grazie all'azione delle potenti setole rimuovono anche lo sporco più ostinato. Con la forza abrasiva della sabbia potrete usare l'idropulitrice per togliere dalla cancellata la ruggine o i vecchi strati di vernice. Per la pulizia di punti difficilmente accessibili come grondaie o tettoie, passaruota, parti sotto scocca dei veicoli o per pulire l'interno dei serbatoi o recipienti. Grazie ai detergenti Lavor potrete igienizzare, eliminare alghe e verde muschio, far brillare la vostra auto. Filtro ingresso acqua ispezionabile. Da collegare al rubinetto del giardino per filtrare ed eliminare l'acqua in ingresso all'idropulitrice. Lavor, da 40 anni un pulito tutto italiano.